Andiamo a fare invece le Bed Wars, perché abbiamo già fatto Minecraft, ma Blanco distrugge tutto nel mio server, ora andiamo a fare le Bed Wars con Blanco che distrugge tutto. E andiamo a distruggere tutti quanti nelle Bed Wars, venite tutti quanti insieme a me, creiamo una Bed Wars privata se c'è qualche bip, altrimenti ce le facciamo lastare. Il nome sarà Rickard Soffigel, però comunque la skin è quella di Blanco e ce la dimiamo quella. Quindi mi raccomando, perché non possiamo coprire con le assi, perché Blanco ha rotto le assi di Sanremo, mentre rompeva anche le rose, e quindi noi non possiamo fare altro che rimanere semplicemente in piedi con la lana, quindi dobbiamo riuscire a rangiarsi con questa. Porca miseria, mannaggia a me, devo prendere questo blocco, mannaggia la miseria. Allora andiamo a prendere qua armatura, bloc, spada e pronti per andare i diamanti, vediamo se c'è qualcuno che ci sta pushando, c'è il rosso che ci pusha. È caduto ragazzi, è quel momento, è il momento ragazzi, è il momento in cui possiamo andare noi a pushare lui invece che lui a noi. Quindi cerchiamo di non cadere da questo ponte, vediamo di non rischiarla troppo. Allora pronti, pronti ragazzi per pusharlo, perché lui è in svantaggio. Vai, 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 l'ho distrutto ragazzi, l'ho distrutto, c'è un cuore, distrutto ragazzi, distrutto, possiamo distruggere il letto. Vediamo se ci riusciamo, vediamo se ci riusciamo, perfetto, eh, mi sa che, no, ok, posso scappare, perfetto, perfetto, perfetto. Eh, però mi sa che mi rompe il letto così, eh. L'unico modo che ho per sopravvivere ragazzi è semplicemente buttarlo di sotto, quindi io farò una cosa, così, GG, GG per me. Intanto il primo letto l'abbiamo distrutto, spara, blocchi e possiamo andare i diamanti che abbiamo collegato un sacco di tempo fa, però ormai diciamo che possiamo andare a prenderli semplicemente perché in questo momento ce ne saranno sicuramente quattro. Ne abbiamo quattro, quindi possiamo prenderci lo sharpness. Allora togliamo qua i blocchi, ok, abbiamo un po' di roba, ok, che ci facciamo con queste cose qua? Io direi prendiamoci una TNT, una mela d'oro, blocchi, blocchi e qui il resto lo mettiamo dentro perché ci può essere utile per una, per una fireball, sì, 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 sì. Il verde, chi è il verde ragazzi? Notaus, allora pushiamolo, vai, pushiamolo. Ah, ma chi è l'azzurro, scusate, che sta pushando? Ma Zen Action che stai fa? Perché stai pushando me? No, Zen Action, ma c'è sta il verde lì, ma perché devi pushare me? Annaggia te. Vabbè, io direi che andiamo a pushare lui a sto punto, ormai è andata. Però possiamo fare un TNT jump contro il verde ragazzi, eh? Direi che possiamo farlo tranquillamente, che ne dite? Allora, no, però mi sa che non c'ho spazio, non so se c'è lo spazio. Uno, due, tre. Dai, ma che? Ma che TNT jump è? Non mi ha fatto manco partire. Ma cosa sto vedendo? Niente, beh, niente. Andiamo a prenderci sti amanti e facciamo soltanto le cose da camper, va. È meglio. Ah, c'è il bianco ragazzi, il bianco che ci sta pushando. C'è il bianco qui. Allora, facciamo una cosa. Mettiamoci i potenziamenti. Ok, possiamo pushare. Possiamo attaccarlo. Ah, ciao, Not Capra. Salve. Che vuole fare? Venga qua. Dai, su. Su, Not Capra, forza. Forza. Dai. E non fare queste cose, per favore, ti prego. Ok, è caduto. Eh, vabbè. No, chi è che ha lanciato la fireball? Ma, Zen Action. Ok. Noll. Allora, andiamo qua. Prendiamoci questi diamanti e andiamo subito a pushare il bianco, direi. Però abbiamo collegamento da tutti, ragazzi. Mi sa che qua diventa difficile perché siamo in un panino. Siamo in un panino perché ci stanno pushando, infatti. Ne ero sicuro. Eh, infatti. GG per me, ragazzi, perché è già morto. Già lo vedo. Cioè, mi dispiace per lui, ma non mi ha tolto assolutamente niente. Ok, allora, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di più serio. Direi, prendiamo i blocchi. TNT. E queste cose qua. Fireball jump, ragazzi, all'ordine del giorno. Vediamo se riusciamo a non farci pushare ancora da capra. Eh, io ho paura, ragazzi, perché capra potrebbe starci pushando in qualsiasi momento. Eh, mi sa che va a finire che perdo il letto. No, però capra è lontano, in realtà. Quindi, la cosa che posso fare, ragazzi, l'unica cosa che posso fare per mantenere questo vantaggio che ho in questo momento dato dai diamanti è riuscire ad attaccare il verde. Perché altrimenti veramente non riesco a... Riesco perché sono in un panino, ragazzi. Ok. Eh, che vogliamo fare? Vamos. Ok, letto rotto. Ok, vediamo se riusciamo a salvarci, ragazzi. Ok, ci siamo salvati. Andiamo questo. Vamos, ragazzi, pronti? Vediamo un po'. Siete cuori. Dai! Ok, perfetto, morto. Andiamo, ragazzi. Già abbiamo due kill finali. Allora, possiamo andare col prossimo. Possiamo andare col prossimo. Blocchi. Ok, ragazzi, dobbiamo trajardarla. Dobbiamo trajardarla perché Blanco ha questo obiettivo. Distruggere tutti. Quindi, andiamo anche con Z-Action. Andiamo. Cerchiamo di non fare un fireball jump con quello di prima. Ok, facciamo così. Andiamo a Z-Action. Sperando che non mi rompa il letto not capra. Addio per il mio letto, ragazzi. Direi addio per il mio letto. Posso solo dire questo. Il mio letto è andato. Allora, ova degli smeraldi. Aspetto Z-Action. Però, ragazzi, mi ritrovo in mezzo a due. E mo che faccio? Devo solo salire. È l'unica cosa che posso fare. Ragazzi, mi ritrovo in un panino. Eh, mi ritrovo in un panino, ragazzi. Ok, Z-Action è caduto. Vediamo se loro fightano tra di loro. Ok, stanno fightando tra di loro. Sì! Sono vivo, ragazzi. Sono vivo. Allora, dato che sono vivo, posso tornare in base. Mi ha rotto il letto? Sì, vero? Ok. Sono vivo, ragazzi. È un miracolo questo. È un miracolo divino. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Possiamo recuperare, ragazzi. Possiamo recuperare. Forza, forza, forza. Possiamo recuperarla. La blocchia. Eh, su qua c'ho bisogno soltanto ed unicamente di mele d'oro. Possiamo recuperarla, ragazzi. Vieni qua, Z-Action. Do vai? Dai, non andare su, per favore. Se no, mi ritrovo un'altra volta in un panino. Io non voglio ritrovarmi un'altra volta in un panino, ragazzi. Ma che sta a fa' là? Salgo qua sopra, ragazzi. Facciamo prima. Ok, ucciso. Ho rischiato un sacco, ragazzi. Mi ha dato un critico della Madonna. Ok, facciamo così. Andiamo a pushar Z-Action. Ragazzi, ve lo giuro. Vedo la possibilità di vincere. Anche se sono senza un letto. Sperando che non mi pushano subito. Dov'è che sta l'azzurro, ragazzi? Sta laggando un sacco. Ok. Cos'è sto lag? Oh! Aiuto! Mamma mia, che lag! Aiuto, 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 aiuto. Allora, c'ho sei. C'ho sei, direi che con sei andiamo a farci il Protection 2. Oh no, non è vero, non mi basta. Non è che c'ho due diamanti qua dentro. No, non mi dica che non mi basta perché non c'ho Protection 2. Sì, invece. Ok, possiamo fare Protection 2, buono. Ma se andiamo agli Smeraldi, raga? Potrebbe essere una buona idea, eh. No. No! Dele tue mannaggia alla miseria delle trappole. Pazio porco. Ragazzi, siamo pronti per la prossima partita. Andiamo, andiamo qua. Ah, abbiamo provato quella di prima. Purtroppo abbiamo perso. Cerchiamo di vincere questa, invece. Possiamo coprire soltanto con la lana, come ho detto prima. Quindi cerchiamo di coprire soltanto con la lana per bene. Stavolta lo copro un po' meglio perché sennò veramente me lo distruggono subito, come è successo tre secondi fa. Ok, andiamo qua. Andiamo subito, ma senza passare dal via proprio direttamente ai diamanti. Perché in questa mappa è importante. Vabbè, sono caduto di sotto. Non succede niente. Allora, andiamo qua. Prendiamoci questo oro. Dopo aver fatto questo, prendiamoci questo ferro. Anna mi voleva pusciare. Bene, io allora pusherò te. Facciamo questa cosa di ricambio. Ti va bene? È la stessa situazione di prima, ragazzi. La stessa situazione della partita di prima. Vai, ragazzi, vai, vai. Pusha, 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 pusha. È il momento. È il momento. Non ho blocchi, purtroppo. Non ho blocchi. Allora, vediamo un po' se riusciamo a ammazzarlo. Perfetto, ricca. Mamma mia. Troppo forte. Troppo forte, ragazzi. L'ho sfondata male. Non mi ha colpito una volta. Non mi ha colpito. Ok. Ok. Perfetto. GG. GG. Allora, armatura, spada, blocchi. Perfetto, ci siamo. Andiamo qua. Possiamo prenderci anche la spada, in realtà, di ferro. Buono. Andiamo subito al centro, ragazzi. Andiamo subito al centro. Togliamo quest'oro. Andiamo subito, ma senza passare dal via, al centro. Passiamo per la mia base. No, sì, invece. Perché serve avere il collegamento direttamente dalla base, perché altrimenti per ritornare se ci pushano è la fine. Abbiamo un vantaggio su tutti quanti, in teoria, perché abbiamo più generatori. Non abbiamo esattamente due. Il verde non ha coperto il suo letto, quindi io direi che possiamo andarlo a pushare, dato che non ha coperto appunto il suo letto. Vediamo se riusciamo ad arrivare in tempo, prima che appunto arriva lui. Ci proviamo, ci proviamo almeno. Perlomeno questa cosa qui. Non so che mi bastano i blocchi, più che altro. Allora, io salgo, perché per sicurezza, magari, che ne sai, che sta qua dietro e va a finire male. No, non è qui dietro. Allora gli rompo il letto subito. E ci prendiamo altri po' di blocchi, perché l'avevo finito. Ok, no. Eh, niente, ragazzi. È andata. Eh, vabbè. GG per lui, perché mi ha preso lo sprovvisto. Adesso lui si prende i diamanti e si fa un vantaggio, quindi io devo per forza andarlo a pushare, perché altrimenti lui si fa il vantaggio dell'armatura e dato che ho visto che non è scarso, finisce veramente male. Questo è poco ma sicuro. Che passiamo da qua. Ok, l'abbiamo preso prima, ragazzi. Eh, vabbè. L'abbiamo preso, ragazzi. Andata. GG per lui. A posto. Se l'era giocata bene, in realtà, eh. Se l'era giocata bene, però c'è qualcuno che mi sta venendo qui. No, non sta venendo nessuno qua. Siamo rimasti in tre, ragazzi. Siamo rimasti soltanto in tre. Abbiamo tutti quanti in letto. No, tutti quanti sono collegati al centro, ragazzi, perché effettivamente, da quanto ho visto, non ha saltato. Mannaggia il gioco! Allora, il bianco qua aveva fatto i collegamenti. Questa cosa è buona. L'azzurro non è qui. Posso rompergli il letto? Se l'azzurro non è qua, ragazzi, posso anche rompergli il letto, in realtà. Sfruttiamo questa occasione. Direi subito, 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 senza pensarci neanche un secondo. Perfetto, letto rotto. Possiamo andare a farci anche la protection e la spada. Quindi così e così. Buonissimo. Vediamo se sta qua. Ecco l'azzurro, sta lì. Perfetto. Abbiamo un vantaggio su lui, lui. Non so se si vuole andare a fare la cosa in smeraldo. E in diamante, sì, smeraldo. In diamante speriamo di no. Altrimenti qua c'è il rischio che lui è in vantaggio. Però non è detto che, ripeto, che sia forte, quindi magari che ne sappiamo. Però sicuramente è andato a prendere i diamanti. I smeraldi, sì, si è fatta la cosa in diamante. La cosa che posso fare sicuramente è pusharlo. Altrimenti qua va a finire che si potenzia troppo. Perché probabilmente si è fatta pure la spada in diamante. Allora, vediamo un po' se non si accorge, ragazzi. Ok, non si è accorto, non si è raccorto, non si è raccorto. Eh, vabbè, l'ho sfondato, ragazzi. Eh, vabbè. Ho fatto una combo di quelle che veramente così grosse non ne hai mai viste. Manca soltanto il grigio, ragazzi. Manca soltanto il grigio che sta di là. Mi sa che sta pushando me. Non so se sta pushando me. Io prendo questi blocchi, queste cose qua, per farmi il TNT jump. Magari riesco a farlo. No, non ho abbastanza materiali. Non ho niente qui. Speriamo di non cadere nel momento in cui lui mi rompe il letto. Però più di questo non so che altro devo pensare. Perché non ho un'idea di dove possa essere, in realtà. Perché se quello è il grigio... Ah, no, l'ha fatto il collegamento al centro, lui, in realtà. Quindi sicuramente sta pushando me. Ah, no, sta al centro. Sta alla sua base? Ok, sta alla sua base, ragazzi. Sì, sì. Che me la fai così veloce? Ti piace a te? Eh, vabbè, che vogliamo fare? Vabbè, capito? Dobbiamo iniziare a fare i pillar qua, quindi me ne vado direttamente. Non ci voglio neanche questa pensaccia a questo qui che fa i pillar. Vabbè, io passo da qua, mi faccio... Vado torno nella mia base, ragazzi, con calma. Mi faccio l'armatura. L'armatura di livello 2, l'armatura in diamante. E poi siamo abbastanza in vantaggio rispetto a lui. Quindi, perché dobbiamo fare così questi problemi grossi? Perché ci dobbiamo fare questi problemi? Allora, andiamo qua. Prendiamo anche l'armatura in diamante. Perfetto. Io di così, ragazzi, come vogliamo posizionare. Impossibile. Prendiamo altri blocchi. Io non so se si è fatta l'armatura in diamante. Non mi pare che si è fatto l'armatura in diamante. Sta semplicemente facendo queste cose. Non ha capito che io posso fare un fireball jump. Dai! GG! Mamma mia, ragazzi, che giocata! Che giocata da parte Rickaz, signori! Fireball jump, fireball per terra. Facciamolo cadere e rompiamo il letto prima che cade di sotto, ragazzi. Ma quanto sono forte. Signori, ragazzi, signori, ragazzi. Il blanco, fantastico blanco, incredibile. Ha ucciso tutti quanti nelle Bedwars. Io, ragazzi, vi ringrazio per la visione del video. Ci vediamo in uno prossimo. Se avete in mente delle idee per dei fantastici meme, non fate altro che scrivere nei commenti quello che vorreste vedere. Lasciate like, iscrivetevi al canale e venite in live lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica alle 17.30. Ciao, ragazzi!